È molto interessante secondo me il fatto che appunto si affianchi alle grandi proposte musicali della città con una sua identità molto precisa, che è un'identità di scoperta e soprattutto di invito a Pesaro di musicisti di grande valore che solitamente appunto non frequentavano la nostra città. Quindi un progetto sempre molto chiaro e molto coerente e quest'anno ha in più la possibilità di mostrarci anche un altro luogo importante che la città ha recuperato, ha voluto recuperare per il suo progetto culturale che è il Conventino dei Serviti di Maria di Monteciccardo e quindi appunto due spazi, il conventino e il parco che insieme possono tornare a farsi palcoscenico per una proposta musicale di grande qualità. I primi tre concetti che si terranno al Conventino dei Serviti di Maria di Monteciccardo hanno un'impronta decisamente cameristica. Nella prima serata, l'evento inaugurale, il protagonista sarà Niccolò Paganini, famoso come virtuoso del violino e della chitarra ma in realtà anche grande compositore di musica da camera, probabilmente il più grande compositore di musica da camera del primo docento italiano. Io alla chitarra, insieme a Piercarlo Sacco, al violino e alla viola e a Camilla Patria, al violoncello, eseguiremo due suoi terzetti. Mentre invece il 13 luglio, il martedì successivo, Andrea Turini, docente di pianoforte principale al Conservatorio Rossini terrà un recite al solistico perfettamente bipartito fra due dei massimi geni della storia della musica, Bach e Debussy. L'ultimo concerto al Conventino di Monteciccardo mi vedrà accompagnare a Juan Francisco Gatell, noto tenore argentino e più volte ospite del Rossino Opera Festival, che accompagnerò appunto in un recital che andrà dalle musiche di Mozart a quelle di Piazzolla, per cui tra Europa e Sud America. I due eventi invece nell'arena del Parco Miralfiore avranno un taglio differente. Mercoledì 28 luglio ci sarà un concerto lirico con Sara Rossini, soprano, e Riccardo Dell'Asciucca, tenore, mentre invece la serata conclusiva di Moon sarà un melologo con musiche di Astor Piazzolla, eseguite da Andrea Dieci e Piercarlo Sacco, per cui in duo chitarra e violino o viola, che saranno intervallate a poesie di Cesare Pavese, per un spettacolo dal titolo E ti senti pulsare nel sangue, le poesie che verranno lette da Federica Fracassi, un'attrice che ha già lavorato con Amate, tra le più importanti attrici italiane di questo momento.